Dica Lorenzo, che cosa ha provato quando ha fatto il gollo oggi? Oggi? Sul 1-1, lei era al centro campo, gli è arrivata la palla, chi gliel'ha passata questa palla? Daniel. Daniel? Sì. E lei che cosa ha visto il quadro della porta? No. Ha tirato intuitivamente? Sì. E che cosa gli ha detto alla palla? Vai a finire nel 7? No, quella c'è andata a sola. Vieni. Gli ha detto... Che gli ha detto? Se non entra, la bucava. Sì. Se non entrava... Ma tu c'hai tirato in porta praticamente? Sì. Che cazzo è grosso dal limite dell'aria? Dice ora tiro in porta. Sì. Hai indovinato il gol della vittoria dell'Olimpia? A quanto pare. A quanto pare. Siamo contenti? Bastanza. Allora stasera il cinghiale te lo faccio mangiare. Lo mangiavo anche se non segnavo. Eh vabbè però io ti avevo detto che se facevi un gollettino sarebbe stato più buono perché nel frattempo ho comprato le bacche di ginepro. Che era una cosa che ci mancava. Più le olive trapanesi. Bravo spinello. E allora viene una pietanza che ha bisogno ancora di una mezz'oretta di... Quante cavolo di buste ci sono? Sei. Ma che sei? Otto. E se ne abbiamo aggiunto due dopo. Va bene passo e chiudo. Mi dispiace per farti fare il lavoro. Scendo.